Ciao ragazze, nuovo video, prodotti preferiti di marzo, allora iniziamo subito, ne avete già visti perché vi ho già parlato nei vlog, questa crema qui, Polinesian Escape, l'ozione corpo della Lidl, non la finisco, la tengo come una reliquia, è quasi a metà, 300 ml, sali pesca, sali fresco, di melone, fantastica, veramente stupenda, provatela se la trovate, poi, come smalto, anche se adesso non ho nessuno smalto, voglio far crescere le unghie, questo qui numero 27 della Essie, costato 10 euro, watermelon, molto estivo, fucsia, io amo i fucsia d'estate, soprattutto in primavera ne ho tantissimi, questo qui vi ho già fatto la recensione, dura 4 giorni, mi piace veramente un sacco, poi, sulle labbra a marzo ho sempre usato questo prodottino qui, che è un lip gloss, appiccica molto le labbra, soprattutto i bordi, numero 03, girl of today, rosa, fantastico, molto bello, anche di questo c'è già la recensione sul mio canale, non è matte, ma è un bellissimo colore, provatelo, ciao Claudia, la bottega colorata, ciao Alice, la Z Makeup, ciao The Hidden Beauty, Sabrina, ciao Francesca, Fran Style & More, ciao, ciao, Luca Mere de Canella, ciao bella, e ciao a tutti voi che mi seguite, ciao Sakura Alexia, grazie per tutti i commenti, poi, volevo salutare un po' di voi, soprattutto saluto Alessia del canale, Alessia ASMR Channel, ciao tesoro, e un'altra Alessia, Alessia White Chocolate ASMR, ciao bella, un bacio ai tuoi figli e tuo marito, anche se non mi conosco, bellissimi, poi, questi sono i canali appunto che ho nominato e che mi piacciono tantissimo, che mi sono piaciuti soprattutto a marzo, poi, questa collana qui la metto sempre, l'ho messa tantissimo, sia a febbraio, ma soprattutto a marzo, mi piace un sacco, anche se è costata 5 euro, comunque molto molto elegante, molto fine, molto semplice, adoro l'oro, il dorato, anche se questa è finta dorata, però è bellissima, poi, guardate i miei video outfit, vanno fatti tantissimi, braccialetti questi qua di Bershka, 3 euro, 2 euro, rosato, argento finto e rosato, purtroppo si stanno rovinando, ma sono bellissimi, tengo la maglia così, perché facendo le pulizie mi sono sbucciata oggi, quindi vabbè, cosa voglio direvi d'altro, come forza ho amato, come sempre, questa qui, perché è a tracolla, cioè è a spalla, ma è come fosse a tracolla, è comodissima, è praticamente una valigia, noi donne abbiamo sempre la casa, nella borsa, quindi ottima, poi, come sciarpa ho adorato questa qui, la metto anche ad aprile, perché adesso iniziano le giornate di sole, iniziano ad allungarsi le giornate, quindi mi piace un sacco questa qui, l'ho presa in una bancarella, sembra che abbia i pianeti, tipo Marte, delle palline, dei pois, bellissima, io la metto così, la chiudo e voilà, andiamo in giro così, bellissima, anche questa maglia è la mia preferita, del momento, del periodo, molto molto larga, un pochino squallata, ma bellissima, jeans stretti, ovviamente, perché metto sempre i jeans stretti, scudate le calze, non molto fashion, da casalinga, comunque questa è la sciarpa, poi, a parte appunto guardare i miei video outfit, perché le maglie e i vestiti che ho indossato li guarderete nei video outfit, la sciarpa è questa, un'altra maglia che ho amato da Civici Moda, l'ho comprata a 15 euro, anzi 13, questa qui, bellissima, blu con i brillantini, c'era anche rossa, bianca, rosa e nera, bellissima, maniche lunghe, ma in primavera io metto ancora le maglie maniche lunghe, ha i brillantini, non prude per niente, sembra trasparente, ma non è trasparente, amore, amore puro per questa maglia, poi, come ricette, diciamo che sto cercando di mangiare un po' più sano, sto cercando di comprare meno torte fatte dagli altri e più cose fatte in casa da me, e quindi ho fatto tantissime volte la torta mele e cannella, questa qui senza lievito, basta ma buonissima, provate anche voi a fare le ricette, le torte in casa, poi, vabbè, come prodotti finiti ve li faccio vedere in un altro video, vi voglio dire un po' di canzoni, mi piace tantissimo la canzone, per me, ora esisti solo tu, di Bianca Azei, mi piace tantissimo la canzone Shantaia di Shakira e, non mi ricordo, un altro, non mi ricordo, J Balvin, forse, comunque mi piace tantissimo la musica reggaeton, la musica reggae anche, una canzone reggae che mi ha fatto ascoltare Dino, che mi piace tantissimo, è It's a pity, non mi ricordo chi la canta, comunque è una ragazza reggeggiante, diciamo così, è carino il reggae, tipo Bob Marley, Damian Marley, Raffaele, eccetera, come video appunto ho adorato i canali che vi ho detto prima, più Raffaele Voice ASMR e anche Hermetic Kitten ASMR, un bacio a tutti, poi, altra canzone che mi piace tantissimo, non lo so, tutta colpa mia, Dielo Di, Amore Avrai, bellissima canzone, vorrei conoscerla, vorrei sul cd e vorrei anche avere il cd di Lodovica Comello, perché fa delle canzoni bellissime, sono stupende queste due ragazze, poi a marzo sono andata al Festival dell'Oriente, bellissima esperienza, stupenda, io adoro l'Oriente, il cibo orientale, giapponese, cinese, quindi I love you, quel posto bellissimo, ho fatto il vlog, l'ho già caricato, quindi guardatelo, poi inizia la primavera, inizia il sole, anche se odio gli insetti, comunque bellissimo che le giornate si siano allungate, adoro la primavera, a parte appunto gli insetti, inizia a fare caldo e quindi inizio a svestirmi, a mettere mezze maniche, a fare un sacco di pulizie di primavera, a presto, nuovo video, ciao! Ciao!